Buongiorno a tutti, oggi voglio fare vedere e realizzare insieme con voi questo motivo, motivo rilievo, non complicato, semplicissimo, 6 maglie larghezza e 4 giri altezza. Questo motivo si può utilizzare anche come un motivo, come decorazione, stesse cose. Si può fare anche copertine, questa parte di ritto, questa parte di rovescio, guardate che bellezza. Questa lana grossa, si può e anche bisogno utilizzare lana quale più sottile, specialmente per bambini. Questo è molto importante, questa lana grossa io ho presa a posto per fare vedere voi motive, così più grandi e mi sembra così più utile. Adesso faccio vedere voi schema, schema semplicissimo, solo quattro giri, guardate. Come io ho detto, 6 maglie larghezza e altezza quarto, questa parte di rovescio, è tutto. E adesso cominciamo, giro 1, questo è il mio famoso bordino, non mi concentro con il mio motivo, guardate. Allora, cominciamo, questo diritto noi spostiamo, 2 rovescio, 1 rovescio, 2 rovescio, 2 rovescio, 3, 2 rovescio, 1, 2. Abbiamo fatto schema, ripetiamo il nostro schema. Questa quale a centro noi spostiamo, 2 rovescio, 1 rovescio, 2 rovescio, 2 rovescio, 2 rovescio, facciamo, 3, 1, 2, e entriamo dentro, facciamo terza, 2 rovescio, 1 rovescio, 2 rovescio, secondo rovescio. Ripetiamo, prima maglia, questa diritta, spostiamo, 2 rovescio, 1 rovescio, 2 rovescio, dalle questa maglia facciamo 3, entriamo mezzo, tiriamo filo, un gitato e terza facciamo dentro maglia, 2 rovescio, 1 rovescio, secondo rovescio. Ripetiamo, questa maglia, spostiamo, 2 rovescio, 1 rovescio, secondo rovescio, dalla questa maglia facciamo 3, cosa facciamo? Entriamo mezzo, prendiamo, tiriamo, un gitato e entriamo dentro questa maglia, lavoriamo anche lì, 3, 2 rovescio, 1 rovescio, secondo rovescio. Abbiamo fatto, primo giro, ci vediamo nel giro 2. Giro 2, come voi guardate, come guardano le nostre maglie, dove noi abbiamo rovescio, nelle parti di rovescio, nelle parti di rovescio, loro diritti, facciamo un diritto, secondo diritto, questi, noi abbiamo fatto, dalla 1 abbiamo fatto 3, vanno rovescio, 1 rovescio, secondo rovescio, terza rovescio. Questi, due, come voi guardate, questi erano rovescio, dalla parte di diritto, nelle parti di rovescio vanno diritti, un diritto, secondo diritto. Questa maglia, quale noi abbiamo spostato, non abbiamo lavorato, adesso lavoriamo, facciamo lei come rovescio. Diritto, diritto, questi quali 3, dalla 1 abbiamo fatto 3, vanno tutti di rovescio. Come voi vedete, forse persone quali appena cominciate a lavorare, è difficile capire, però voi con un dittino leggermente così tirate e voi vedete questa triccina. Come triccina bisogna fare diritto, diritto, questa quale è stata spostata, facciamo rovescio, questo diritto, questo diritto, 3 rovescio, dalla 1 quale noi abbiamo 3, guardate, diritto, diritto, questa quale è stata spostata, non lavorata, adesso lavoriamo, facciamo rovescio, diritto, questa quale è stata spostata, questa quale è stata spostata, non lavorata, adesso lavoriamo, facciamo come rovescio. Ci vediamo nel giro 3, giro 3, prima maglia diritta spostiamo, un rovescio, questa rovescio e questa maglia diritta facciamo insieme verso a destra, per questo motivo giriamo come deve essere e facciamo insieme verso a destra, diritto, questa maglia e questo rovescio devono andare insieme. Si può fare due modi, si può fare così, oppure, adesso io faccio vedere come, adesso rovescio e questa nostra schema, cosa vuol dire, abbiamo cominciato dalle 6 maglie, quando dalla 1 abbiamo fatto 3, senz'altro aumentate, adesso dobbiamo diminuire, perciò adesso rimasti 6. Ripetiamo, questa maglia diritta spostiamo, un rovescio, questo rovescio e questa diritta facciamo insieme verso a destra, quale mezzo facciamo diritto, questa maglia si può fare con questa maniera, quale io ho fatto, questa abbiamo lavorato come diritta, questa diritta abbiamo cavalcato sopra quale era rovescio. Rovescio. Ripetiamo, prima maglia spostiamo, non lavoriamo, un rovescio, questa e questa rovescio dobbiamo fare insieme, giriamo e facciamo insieme verso a destra, quale mezzo facciamo diritto, terza facciamo insieme con questa rovescio, come voi guardate abbiamo cominciato dalle 6 e ancora abbiamo tornato 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ripetiamo, questa spostiamo, questa facciamo rovescio, questa rovescio, questa diritta facciamo insieme, e adesso dobbiamo fare questi insieme, si può fare anche questa maniera, mi piace questa maniera di più, mille persone, mille parere, rovescio, e abbiamo finito giro 3, ci vediamo nel giro 4. Giro 4, giro 4, come guardano le nostre maglie? Diritto, un rovescio, secondo rovescio, terzo rovescio, e questa maglia quale era spostata, rovescio, ripetiamo, un diritto, un rovescio, secondo rovescio, terzo rovescio, diritto, e questa maglia quale era spostata, facciamo rovescio, un rovescio, ripetiamo, un diritto, tre rovescio, uno, due, tre, un diritto, e questa maglia quale è stata spostata, non lavorata, facciamo rovescio, questo mio bordino non, mica centro, guardate cosa abbiamo fatto, è semplicissimo, non complicato, si può fare cardigan, maglione, io ripeto, tutta cosa io ho detto dall'inizio, adesso io ripeto, si può fare con cotone, ricordate questa lana molto grossa, come voi provate, nella vostra lana, oppure cotone con acrilico, più sottili, senz'altro dovete trovare anche giuste ferie, ebbene questa, questa mattina, guardate, adesso io faccio vedere voi ancora, la mia schema, e per oggi è tutto, questa è schema, semplicissimo, e non c'è niente complicato, questo io ho fatto, io ho segnale, io non lo so come, io non mica maestra, però come dire sincero, questa schiumiglia, quale io ho fatto prima, schema, unica, cosa qui io ho aggiunto, maglie, quale abbiamo spostato, questa, però, questa mattina, sempre quella, unica, io ho aggiunto, questa, queste, questa maglie, quale noi abbiamo spostato, questi, e così, dal motivo 4, è diventato, un motivo, con 6, 6 maglie, una spostiamo, rovescio, dalla 1 maglia, facciamo 3, rovescio, rovescio, e così, viene, 6, 6 maglie, ragazze, 6 maglie, oppure 1, non lo so come corretto, però è importante, cosa voi, voi capite a me, va bene ragazze, per adesso, io voi auguro, buona giornata, buona salute, e pacienza. Grazie, arrivederci.